Ciao amici, sono Mauro, gli orti di Mauro, quelli che vi sto inquadrando sono i miei due terremoti, per le esattezze diciamo che il terremoto è solo la piccolina, dovevo chiamarla Catrina, non Kiba, e l'altro il pelandrone, il pelandra, che non riesce a giocarci insieme neanche a pagarlo, lei è troppo agitata, facciamo una passeggiata insieme nell'orto, se sentite qualche vibrazione, qualche suono strano è perché mi arrivano delle notifiche degli amici, ma io vado avanti a registrare quello che vi sto inquadrando adesso è il pollaio, il pollaio finito, il video del pollaio finito sta per arrivare anche lui, quindi a breve avremo la serie del pollaio nuovo, mi giro, vi inquadro ancora qualcosa, questo qui è il famoso taggono con ormai solo la fioritura dei taggetti, ecco qua, vedete, quei due cassoni lì sono i cassoni nuovi, di cui non ho ancora affatto montato il video, vi arriverà anche quello, poi facciamo un altro due passe, andiamo a vedere il famoso triangolo, che voi ancora forse non avevate, ancora visto con le fragole, poi ci sono, ecco, questo cassoncino qui è da smontare, quindi a riposo una volta tolti i radichi sarà da smantellare perché ci sono delle importanti novità, qua abbiamo, avete visto il video di quando Federica mi ha soppreso mentre facevo questo, ecco qui quello che c'era in quel giorno, le radichi anche quelli, tre viso, qui ci sono delle rape fantastiche, andiamo a vedere, oh che bello, allora io oggi mi sono alzato con quella voglia di venire qui e fare l'ultimo taglio di stagione, quindi come vi posso vedere ho tagliato i bordi, mi sono fatto quasi tre ore di deciscugliatore per il momento, non ho ancora finito, però ho iniziato a fare questa registrazione del video perché volevo farvi poi mandarlo in più tempo prima possibile, vedete questa, questa è l'insalata, siamo al 16 di ottobre, io c'è ancora l'insalata così, guardate, quello era il livello dei cavoli che stanno crescendo, qui ci sono dei ravanelli, qua ci sono dei radicchi palla già, anche se piccolini pronti all'uso, qua abbiamo i porri con i finocchi, guardate che bei finocchi, ok, qui ci sono ancora dei fagiolini, sto mangiando ancora fagiolini, come possiamo vedere da queste immagini, sto raccogliendo ancora fagiolini a metà ottobre tranquillamente, il tempo è bello, vi faccio una panoramica così sull'orto della casetta, la casetta sullo sfondo, è una giornata tranquilla, ho fatto questo collegamento da di là, oltre alla sera, in sera c'è poco e oltre alla sera, come sempre, vi faccio vedere, ma c'è sempre la mia mercanzia, ho in più quel lavandino lì che devo poi posare da un'altra parte, adesso devo finire di pulire qua di fianco per fare la chiusura bene della serra, e perché di questo fuori onda, di questo fuori programma, perché ho fatto l'ultimo taglio di stagione probabilmente fino a non so quando, poi vedere se riuscirò a prendere in mano ancora il decespugliatore il prima possibile per poi portarmi avanti con le pulizie e i lavori vari, spero di riuscire a fare anche il frutteto e il giro del bosco, così almeno anche quelli saranno fatti, prima di andare a vedere se mi fanno questa benedetta operazione al ginocchio, quindi a giorni, a breve, vi farò un altro fuori programma per informarvi sullo stato di fatto della mia situazione del ginocchio, perché dovranno dirmi qualcosa appena io ho qualche notizia sarà mia cura farvi sapere immediatamente come vanno le cose ho parecchi problemi ultimamente con il pc, quindi parliamo anche di quello adesso nel prossimo video che faremo perché ho avuto parecchie difficoltà a montare gli ultimi video, proprio perché ho il computer che ormai mi sta lasciando e il programma che ho scaricato, aggiornato, è peggiorato rispetto a quello vecchio purtroppo alcuni aggiornamenti non vanno sempre bene, quella che vi inquadro adesso è la legnaia di quella vedrete anche tutto il video della costruzione, con le musiche, senza le musiche, stranamente è un momento in cui non ci ha interrotto nessun aereo, è una piaga quella che ho io qui degli aerei purtroppo è una roba del genere, insopportabile guardate, però purtroppo c'è una linea che passa proprio sopra di qua e quindi va bene, allora con questa immagine amici sui due cani padroni di casa insieme a Mauro e l'orti di Mauro, io vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo breve video vi ricordo che potete continuare a seguirmi appunto cliccando anche sulla campanella magari per essere aggiornati sull'inserimento appunto anche di questi magari video non programmati va bene, ciao a tutti e ci risentiamo quindi con un altro fuori programma appena ho notizie sullo stato di salute del mio ginocchio, ciao a tutti, grazie